Siamo qui con Gianfranco da Milano, presidente degli Orizzonti United. Presidente, allora gli Orizzonti tornano alla vittoria sofferta ma convincente. Sì, oggi abbiamo giocato direi abbastanza bene. Ho sbagliato come al solito qualche gol, ma questo fa parte del gioco. Eramo un po' in difficoltà perché ci mancavano alcuni giocatori fondamentali per la squadra. Però chi ha giocato ha dimostrato di valere e abbiamo fatto una buona partita, un'attima partita. Gli Orizzonti credono ancora all'obiettivo play-off oppure si sono un po' rassegnati a stare nelle retrovie? Non esiste motivo per non crederci. Siamo lì vicini e oltretutto dobbiamo incontrare una delle dirette rivali a questo obiettivo in casa nostra tra qualche giorno. Quindi noi ci crediamo come crediamo su tutte le partite. Noi le giochiamo tutte per vincere. Poi è chiaro che il campo è quello che dà il risultato finale. Vedremo di portare il risultato migliore alla fine di questo campionato. E come si spiega questo girone di ritorno abbastanza negativo della squadra? Ma più che spiegare il girone di ritorno abbastanza negativo direi che abbiamo fatto dei mezzi miracoli al girone d'andata. Mister e squadra hanno fatto un ottimo girone d'andata anche mancando di quello che è il cosiddetto bomber. Senza voler mettere sul banco d'accusa nessuno di quelli che gioca ci mancherebbe altro. Però nel girone d'andata abbiamo fatto delle ottime partite e qualche cosa non è girato nel girone di ritorno come ci aspettavamo. Direi che il girone di ritorno è stato negativo per alcuni risultati. Però bisogna andare a vedere anche la mole di gioco espressa che è una mole di gioco importante. Noi creiamo un sacco di palle e gol tutte le domeniche. Per chiudere, un'opinione sul turno infrasettimanale che vedrà gli orizzonti affrontare lo Stresa? Un'opinione o un augurio? L'opinione è che è come sempre una partita difficile. Però noi giochiamo con tutti gli avversari rispettandoli ma giocando per vincere. È una partita molto importante per l'obiettivo finale, questo sicuramente sì.